Ciao bello dove andiamo? Si doveva fermare anche i motorini Ciao bello ci vogliamo divertire? No guarda scusami c'è poco da divertirsi Guarda bello io faccio risuscitare anche molti Ecco allora sei sprecata vai a Lourdes Caffone Eh si caffone Ehi bel ragazzuolo io non faccio miracoli ma so far tanto bene il mio mestiere Non mi serve niente nulla mi si è fermato solo il motorino per favore dai Ma cosa sei frocio? Ma che frocio è frocio? Ma senti questo Beh allora cos'è? Non ti piace? E tu mi piaci sì tu mi piaci certo ma mi si è fermato il motorino a me nient'altro Hai besticciato quella tua amorosa Brava brava beh l'hai capito da su E allora su forza dai mettiti lì che mi racconti un po' di cosine su Per fare cosa? Ma per parlare ma cos'hai paura che ti mangi? Dai Beh allora cos'è successo a questo bel ragazzuolo? E niente signorina niente Soltanto che la mia ragazza mi ha buttato fuori di casa da due giorni e io non riesco a fare meno una ragione Tutto per te Ora lei dall'alto della sua esperienza cosa potrebbe consigliarmi? Cosa potrei consigliarti? Mo fattene una ragione mo va la Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti